Marco Travaglio ha commentato la recente decisione del presidente americano Biden che ormai sta agli sgoccioli del suo mandato in quanto a gennaio si insediera Trump di utilizzare missili USA nel conflitto russo-ucraino ovviamente decisione molto controversa e che rischia di mettere in pericolo tutta quanta la stabilità internazionale di conseguenza oggi siamo qui per vedere cosa ne pensa Marco Travaglio ma prima di iniziare io mi presento sono Massimo Salvati di Speedy News e io vi do il benvenuto sul mio canale prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, lasciare un bel mi piace e un commentino alla fine del video per farmi sapere cosa ne pensate detto ciò non perdiamo altro tempo e iniziamo subito con il video oggi sono mille giorni dall'inizio del conflitto e oggi è uscito il tuo libro Ucraina-Russia è nato in poche parole pubblicato da Paper First sempre oggi Putin ha firmato il decreto che aggiorna la dottrina nucleare ti voglio chiedere ma la pace è comunque più vicina perché da gennaio ci sarà Trump alla Casa Bianca? me lo auguro l'alternativa è la terza guerra mondiale nucleare a questo punto non ci sono più vie di mezzo nel senso che ieri e l'altro ieri è successa una cosa gravissima un presidente ritenuto inabile anche soltanto a ricandidarsi perché non ci sta più con la testa è stato indotto da chi lo burattina con i fili perché altrimenti sarebbe stato lui il candidato al posto di Kamala Harris noi non sappiamo chi lo ha indotto a quella mossa ha deciso da presidente scaduto di fare una mossa gravissima e cioè di portare a un livello ancora superiore l'escalation cioè ad autorizzare l'Ucraina a colpire la Russia in quella piccola zona nella quale occupa dei territori altrui con le armi, i missili a lunga gittata americani cosa che prima né gli Stati Uniti né la Gran Bretagna né una gran parte dei paesi europei tra cui l'Italia avevano accettato di fare allora noi dobbiamo domandarci è mai successo che un presidente scaduto che non è in grado di fare il presidente altrimenti sarebbe stato ricandidato decide al posto del presidente eletto che si insedia fra un mese una mossa di questa gravità perché? io studiando questa cosa per scrivere il libro mi sono reso conto che c'è un partito della guerra trasversale in America che non si vede e che ha usato presidenti democratici e presidenti repubblicani per fare guerre gli è andata male stavolta perché Trump per ragioni di affari non perché sia un pacifista o un francescano ha deciso che le guerre devono diminuire e quindi secondo te la pace è più vicina con Trump? no beh non lo so perché prima che si insedi prima che si insedi i colpi di coda di questo partito della guerra potentissimo chiaro ce li dobbiamo aspettare ancora più forti rispetto a questo che già non è male tenete conto che oggi l'Unione Europea si sta accordando per gli euro bond per gli euro bond non per le politiche sociali per arrivare al 2% di spese militari non per le politiche sociali per comprare più del 2% del pil in armi allora tecnicamente il presidente americano è presidente fino a gennaio quindi pieno delle sue funzioni che fosse più o meno opportuno questo è un dibattito e aveva garantito una transizione fluida vi lascio sì no no questo è il video in questione e quello che io penso sull'argomento è sinceramente che ormai si fa di tutto pur di alimentare questo scenario tragico in cui si rischia ogni singolo giorno una terza guerra mondiale e questo è un peccato questo è un peccato perché si dovrebbe smorzare un po' questa situazione cercare di alleggerirla cercare di gettare meno benzina sul fuoco eppure così non succede eppure c'è qualcuno dietro ovviamente le fila di Biden perché non è Biden come ho già detto anche nei miei video precedenti che decide di fare una mossa del genere ma è qualcun altro che manovrando le sue fila manovrando i suoi poteri poi decide e giustifica un atto del genere che è atroce è atroce io continuo a ripetere perché non si può in qualità di America ovvero la nazione più potente del mondo immischiarsi in questa guerra con il con l'unico obiettivo di proseguirla poi alla fine perché diciamocelo chiaramente la guerra ormai sta andando verso un termine soprattutto grazie insomma alla neo elezione di Trump che a questo punto spero si confermi quello che si è confermato e non impazzisca dicendo oppure non si lasci manovrare ecco è più probabile dire una cosa del genere io spero che egli non si lascia manovrare e che quindi ponga cioè rispetti le sue parole e quindi quella di far finire le guerre eccetera eccetera perché altrimenti è veramente è una situazione drastica per noi perché ovviamente stiamo in mezzo e quindi vuoi o non vuoi l'Europa risente di questa situazione e è tragica anche per le persone che poi abitano in quella in quelle zone perché ormai è un anno più di un anno che stanno in questa guerra e io penso e anzi credo fermamente che anche essi si sono stufati di proseguire appunto con una situazione del genere che causa soltanto problemi che fa morire gente innocente che non ha fatto niente e quindi per me sono tutte quante atrocità cioè cose che non stanno né in cielo né in terra diciamolo nuovamente purtroppo gli europei alimentiamo la faccenda in quanto non stiamo prendendo le distanze dall'America non stiamo prendendo le distanze dall'America ma anzi andiamo a favore dell'America per in un certo senso proseguire la guerra e anche qui chissà che disegno c'è dietro ovviamente perché non me lo spiego come si possa volere la guerra in un paese confinante con l'Europa sinceramente io non so come sia possibile pertanto staremo a vedere staremo a vedere è l'unica cosa che si può dire perché ad oggi abbiamo zero informazioni riguardo a quello che potrebbe succedere sappiamo che Putin ha fermato il nuovo patto nucleare ha firmato il nuovo patto nucleare di conseguenza c'è un po' di situazione ancora più instabile sappiamo anche che Putin ha dichiarato in conferenza stampa che considera nemici anche tutti coloro che forniscono armi a rifornimenti all'Ucraina e di conseguenza è un altro passo verso l'escalation il tutto sta diventando sempre più pericoloso spero che questa pericolosità in realtà si tramuti semplicemente in una guerra finita e che finisca presto dunque questa guerra e più di questo non si può dire perché non abbiamo il potere necessario per poter fermare le guerre del genere possiamo semplicemente stare qui e osservare quello che i poteri forti faranno detto ciò io vi saluto ma prima di salutarvi vi invito nuovamente a iscrivervi al canale attivare la campanellina lasciare un bel mi piace e un commentino per farmi sapere cosa ne pensate se anche voi siete stufi di questa guerra e non vedete l'ora che finisca inoltre se vi piaccio io come persona e i miei contenuti vi invito ad abbonarvi al canale detto ciò io vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo video alla prossima e noi ci vediamo